Palermo è circondata dagli incendi. Nelle ultime 24 ore sono arrivate diverse notizie di roghi che si sono sviluppati tutto intorno alla città e non solo, anche dalla provincia arrivano decine di segnalazioni. Come riporta Palermo Todai, squadre di vigili del fuoco, protezione civile, forestale, carabinieri, polizia, municipale e volontari presidiano tutte le zone interessate dalle fiamme, Capogallo, Mondello, Sferracavallo, Barcarello, Bocca di Falco, Baida, Poggio Ridente, San Martino, Monreale, Inserra, Cruillas, Tommaso Natale, Villagrazia, Bellolampo, Altofonte. In provincia roghi da Bagheria a Terrasini, mentre il fuoco ha raggiunto anche l'aeroporto Falcone Borsellino, chiuso fino alle 11 di oggi martedì 25 luglio 2023 e poi riaperto. Il comune di Palermo ha istituito il centro operativo per l'emergenza e ha invitato i cittadini a non uscire per il rischio di ossina. Palermo brucia dal satellite, la mappa. Gli incendi hanno circondato Palermo e si estendono anche in provincia. La mappa generata sul sito della Commissione Europea grazie al satellite Copernicus permette di localizzare gli incendi attivi in Europa e le informazioni sono normalmente aggiornate 6 volte al giorno e rese disponibili entro 2-3 ore dall'acquisizione. Gli incendi attivi sono localizzati sulla base delle cosiddette anomalie termiche prodotte. Gli algoritmi confrontano la temperatura di un potenziale incendio con la temperatura della copertura del suolo circostante. Se la differenza di temperatura è significativa e superiore a una determinata soglia, la zona viene segnalata come incendio attivo o punto caldo. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto. Grazie per la visione!